buonasera a tutti buonasera a tutti innanzitutto ti iscrivi al canale metti l'iscrizione al canale su 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 sempre più su su sempre più su iscrizione al canale attiva la campanella pure iscrivi adesso iscriviti al canale adesso ora iscriviti al canale attiva la campanella poi andate sul ragazzi fatemi questo piacere sul canale di francesco leggendari juvenso e peros il go mi raccomando ragazzi facciamogli arrivare a mille peros e francesco ragazzi a cui mando un abbraccio iscrizione e poi passate da luca passa l'acqua luca totti gianni bianco io entro enigmista la cerchia la cerchia la cerchia la cerchia la cerchia bianco nero la cerchia la cerchia la grande cerchia la cerchia allora che cazzo me ne fotte a me della plusvalenza di merda di spinazzola cosa cazzo me ne fotte a me paragici che cazzo fai stai dormendo porco due ma guarda che che schifo che schifo l'ho detto io che questo dorme questo pensa le cazzate alle puttanate le stronzate le minchiate al la gente sta per istambul la gente sta aspettando i top assoluti 45 stiamo aspettando la presentazione di delit stiamo aspettando marcello al posto del salame alexandro che va a due allora altrimenti non vi lamentate di alexandro nelle partite che ci saranno durante la stagione non vi lamenti non voglio sentire nessuno che ci lamenti di alexandro lamenti lamentere queste cose qui non voglio sentire nessuno che ci lamenta nessuno via alex allora il salame alexandro deve essere sostituito dal top assoluto marcello delit deve essere presentato pogba o isco la svelta chiudi mamma mia chiudi poi la punta che gioca in attacco con ronaldo insieme a chi è ancora il top assoluto neanche in attacco è arrivato 45 top assoluti la gente li sta aspettando perché vuole andare ad istambul 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 svegliati istambul mamma mia istambul 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 iscrivetevi ai canali che vi ho detto istambul svegliati 45 top assoluti chiudi istambul